Anche Gravellona deve fare conti con la maleducazione dei padroni di cani, che non puliscono i ricordini dei loro animali. E così in diverse zone, in particolare nei parchi cittadini, all'isolone e vicino alle scuole medie, le deiezioni canine abbondano. Per contrastare questa brutta abitudine, l'amministrazione comunale e il comando di polizia locale hanno promosso una campagna di sensibilizzazione ad hoc, scattata nella giornata di ieri e denominata Pulisci dove il tuo cane è sporca. Chi si reca presso l'ufficio di polizia locale, spiegano la comandante Teresa Trapani e il primo cittadino Gianni Morandi, può prendere gratuitamente uno dei 1500 kit, composti da palette monouso, raschietto in cartone e sacchetto in polietilene. Su tutto il territorio sono stati posizionati i contenitori per lo smaltimento dei sacchetti e delle palette usate ed un ulteriore è stato posizionato davanti alle scuole primarie di Piazza Vittorio Veneto. Invitiamo chi ama veramente i cani e anche la città di Gravellona a rispettare il regolamento e a comportarsi in maniera consona. I trasgressori saranno puniti con multe che vanno dai 25 ai 500 euro. Abbiamo deciso di utilizzare il metodo del bastone e della carota. Toleranza sì, ma anche punizioni per chi trasgredisce la conclusione della comandante e del sindaco.